Ciao! Se vuoi supportarmi sulla piattaforma viola con Amazon Prime, la sub è gratuita! Oppure puoi pagarla 3,99€. Dai, dai, dai! Supporta un bro! Link nel primo commento. La tana del frerito, oh oh oh. Ciao, prederigno. Eccoci qua! Benvenuti a tutti! Buonasera a tutti! Ciao, buonasera, poveri! Benvenuti a tutti, eccoci qua trovati! Questa nuova live, finalmente. Oggi è mercoledì, quindi oggi una live molto speciale, molto particolare, perché abbiamo qua due pionieri della fresca italiana e mondiale, possiamo dire. Voi parlate anche altre lingue? Io l'inglese lo so bene, lui sa il dialetto, sa lui. Il dialetto napoletano e basta. Vabbè, è che comunque una lingua, quindi... È bene, guarda. Diamo il benvenuto a Nevelo Stirato e Filippo Champagne! Buonasera a tutti! Buonasera ai poveri! In questa avventura mi accompagnerà il mitico Jody Cecchetto! Eccoci, ciao! Ciao, ciao! Lui è quello buono, di solito. Sì, io sono di solito quello buono, che cerca di mettere un pochino di più le cose... Tranquille. A posto. Io invece sono magari un pochino più cacciamolo, però... Per il base anche io sono una persona buona. Come state? Come state ragazzi? Sto a posto? Beh, io ho bevuto fino adesso, sto bene. L'abbiamo visto in una storia. Ciao! Filippo, abbiamo visto una storia che è pubblicato in Gaina prima di venire qui. Sì, diciamo che ho fatto un aperitivo un po' lungo, ma è la prassi della mia vita quotidiana, la mia prassi giornaliera. La mia amministrazione. Attenzione, please. Uè, Grimbaud, amico mio. Stasera voglio venire bello fatto in diretta. Un briaco marcio da fare schifo. Mi presento così stasera. E di prassi ti chiedo, a che ora ti sei svegliato oggi? Oggi mi sono svegliato alle tre. Anche io? Ci siamo svegliati insieme probabilmente. Sì, perché ha un po' i tuoi orari. Sì, sì, anch'io. Perché ieri sono andato al casino, ho fatto tale, sono andato a casa alle 5 del mattino, poi dopo che gioco al casino mi piace rilassare la mia casa, ho mangiato, ho bevuto una birretta, sigarettina e poi sono andato a letto tranquillo. E via a letto. Vabbè, è giusto. Comunque giusto. Tra l'altro io ho mandato un audio, cioè mi ho scritto un messaggio a Filippo e gli ho detto Filippo mi raccomando per stasera cerca magari di, visto che Twitch comunque è vannabile stare male. Lui subito mi ha risposto di non sto mai male con l'altro. Quando mai sto male? È vero, è vero. Nella scorsa live hai proprio detto che tu nella tua vita, nonostante le tue abitudini, non sei mai stato male. A me è successo di dare ai gatti, dare ai gatti intendo rimettere ovviamente, però proprio raramente, magari quando ero più giovane. Adesso male che vada, se esagero mi addormento, quindi... Ok, facciamo così. Visto che magari ci sono molte persone che non vi conoscono, partiamo subito con la presentazione. Se doveste in un minuto, una alla volta, farvi conoscere a chi non vi conosce, cioè cosa fate, che personaggi siete, che persone siete. Inizia tu Filippo, com'è che ti presenterai in un minuto? Mi presenterei innanzitutto, sono... È Filippo il mio nome, sono un grande amante del bere, bere bene, ovvero champagne, vini rossi e anche qualche super alcolico e poi sono ludopatico frenetico, mi ballo tutta la fresca, a gioco, a bere e... Qualche sbarbato ogni tanto che ovviamente la porti fuori al ristorante, io sono un signore un po' all'antica, le offri la cena, le offri la serata... Diciamo che la mia vita è dedicata al bere, al gioco e a qualche fanciulla. Ok, perfetto. Nevio, tu com'è che ti presenteresti a chi non ti conosce? Ah, come mi devo presentare? Stai dormendo. In un minuto. Ma infatti ecco qua... Stai dormendo. Qua ci starebbe una clip, ragazzi, un piccolo suggerimento a Nevio, vai. Mi presento così. Nella mia vita ho sempre lavorato, prima. Che è una bella cosa. Ex miliardario, posso dirlo? Ma miliardario in lire o in euro? Lire. Alla canna adesso, regolare. E quindi mi piace il gioco, come Filippo, ludopatico. Adesso un po' meno rispetto a prima, ma prima altro che ludopatico, proprio, cioè proprio da andare, proprio non alla canna ancora di più. E la mia vita, mi alzo la mattina, vado a lavorare, non male, lavoro, faccio corriere e nonostante ciò adesso ho le possibilità anche di fare, diciamo, diciamo, possiamo dire, influencer. Eh, esatto. Insieme al mio amico Filippo, naturalmente. Io ho una cosa che mi sono sempre chiesto. Grazie anche a lui, devo dirlo, devo ammetterlo. Vabbè, siete un bel duo, siete un bel duo. Sono una bella coppia, dai. Una bella coppia. Ma Nevio, ti faccio domanda un po' provocatoria, anche in base a quelli commenti che ho letto. A te non ti pesa dire, cioè, io avevo veramente una miriade di soldi in banca e adesso magari mi trovo a fare un lavoro che mi paga comunque un sedicesimo rispetto a quello che guadagnavo prima? No, 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 rimango sempre la stessa persona che ero prima. Quindi tu pensi di essere nato per non essere uno che passa la vita da ricco? No, no, non mi interessa. Anche quando ce l'avevi, Filippo mi conosce da tanti anni, non l'ho mai dimostrato, non l'ho mai fatto, mi sono esposto. Voi mi conoscevate quando lui ancora non era stirato? Sì. Sì, lui aveva 16 anni. Io avevo 16 anni, mi aveva così anni, 34, 34. Ma veramente? Ci conosciamo da 30 anni, come no, certo. Ci ha conosciuto in sala corsa a giocare i cavalli. Ah, ecco. Caso strano, no, per dire. Perché io, io avevo 16 anni che già allora giocavo le due, 300 mila lire. Non si può. Che sono soldi. E non si, beh, io entravamo lo stesso, non era un problema. Ma sì, fa l'interno. Ma già è prescritto. Allora erano altri tempi, non era un problema. Comunque, a parte che poi non si può, ma anche oggi vai nelle sale corsa e chiedi a Nevio e vedi anche i minorenni, poi lasciamo stare. Che è sbagliato, sono d'accordo. E qua non voglio lanciare un messaggio sbagliato. Comunque, siamo conosciuti lì. Io già giocavo le due, 300 mila lire e vedevo Nevio che giocava. Allora a gara giocava 10, 20 milioni, che insomma, è come oggi se uno giocasse 30, 40 mila euro a gara, non a giornata a gara. E dicevo, cavolo, quello carica, quello carica, seguiamolo, seguiamolo, che secondo me ci fa vincere. E' sempre stirato. Mi ha mandato a rubare, mi ha mandato. Cazzo, ma non lo so più. Mi ha mandato a rubare, mi ha mandato. Ma quindi, cioè, in realtà, quando vi siete conosciuti, tu avevi 16 anni, giusto? E lui ne aveva 34, mi hai detto. 34, sì. Quindi tu un po' lo vedevi come, non so, una sorta di nipotino, non so, qualcuno da... Vabbè, Filippo poi si è andati subito in sintonia, in simpatia. Lui poi, appena mi ha conosciuto, diciamo, subito, non dico innamorato, nel senso lato. Sì, sì, sì. Normale, no? E poi ci siamo persi di vista. E poi vi siete ritrovati quanto tempo fa? Ci siamo ritrovati una quindicina d'anni fa, che io sono stato in un cocessionario, a comprare una macchina, una Volkswagen, adesso mi ricordo la macchina Easy. E allora, insomma, è andato lì a farmi fare un preventivo, sai, a chiedere dal venditore cosa costa, cosa non costa. Vabbè, mi dà sto preventivo, esco fuori da sta concessionario e vedo lui vestito d'arancione che mi fa, Filippo, Filippo, non ci credo. E dico, cavolo, nevio, ma che ci fai qua, nevio? E lui già era nevio allo stiracolo? Sì, sì, sì. No, aspetta, era nevio, dopo l'ho messo. E dico, ma cosa ci fai qua, nevio? Poi lo vedo con i pantaloncini, poi vedo la maglietta, ti faccio, ma che cavolo stai facendo? E guarda, Filippo, perso tutto, perso tutto, sono andato alla canna totale e adesso faccio il correre per la TNT. Allora, da lì, no? E mi dice, però, Filippo, guarda che qualche cavallino l'ho giocato ancora e ci scambiamo i numeri, no? Ci scambiamo i numeri, anche lì ogni tanto mi chiamava, Filippo, guarda che sto cavallo secondo me è pronto, giocalo. Sono amato 20 cavalli, non ne fosse arrivato uno. Sì, è arrivato, ultimo è arrivato qualcuno. Comunque poi da lì ci siamo ripresi, poi abbiamo cominciato a frequentarci, anche perché lui purtroppo, non secondo lui, secondo me, lui usciva con della gente molto ricca, ma proprio ricca economicamente parlano, che però era gente di... Posso dire un po' qualche parolaccia? Sì, parolaccia. Era proprio gente di merda, gente del cazzo, che lo trattavano anche male, quindi lui usciva, giustamente lavorava tutta settimana, usciva solo a sabato sera e ogni tanto passava a salutarlo perché io di solito a sabato sera facevo poco perché ero stanco, sai, sono in giro tutti, ora c'è una mentalità un po' diversa, di adesso che esco tutte le sere, lo andavo a prendere, l'ho tirato via da sta gentaglia, gentaglia proprio quella classica gente con i soldi, con la puzza sotto nasi, che tra l'altro gente milionaria, che da lì poi la mia idea di dire poveri nasce da loro, perché era gente milionaria, perché andavano lì al ristorante e mangiavano petto di pollo, e tutto rispetto per i polli, mangiavano petto di pollo, bevano la coca cola, spendevano 20 euro a testa e tra l'altro gli facciano mettere i soldi anche a Nevio, quindi Nevio lo porto con me, dico Nevio comincia a uscire con me, andiamo a farla mangiare, abbiamo champagne, andiamo da Davide, ci divertiamo, facciamo casino e da lì ci siamo riprese e adesso non siamo più staccati ovviamente. Quindi ora pensi che Nevio faccia una vita migliore rispetto a... Sicuramente, Nevio nonostante... Scusami se ti interrompo Nevio, nonostante Nevio sia stato stirato o quello che sia, con me chiaramente, io lo faccio con il cuore, non rin faccio niente a nessuno, insomma, Nevio posso dire che Nevio oggi, alla sua età, ha bevuto penso tutti gli champagne del mondo, cioè della Francia, con il champagne francese, li ha bevuti tutti. No, li ho bevuti anche prima ai tempi, prima che bevevo, è chiaro. Non c'erano i champagne di adesso, ad esempio, prima c'era solo Dompero, Cristal, la vedovella, Rufflico, Night Night, io parlo ai miei tempi, i champagne ci sono adesso, cioè, sono tutti i champagne nuovi che io non conoscevo e tramite lui... Poi da lì conosciamo un altro milionario, questo è un plurimilionario che ci invita nella sua mega villa in Brianza, con la piscina, altro pisciaturo, scusate se lo dico, no, per me lo è, per te no, per me è un pisciaturo. Ci invita lì, facciamo questa grigliata, per carità, ospitalità, un gran signore non si discute, e poi dopo da lì dico, Nevio perché non ti scrivi anche te su Istra, io mi ho scritto da un po' di tempo, che secondo me, lui mi dice, filo, facciamo il nuovo Nevio alla canna, e dico, no, Nevio, alla canna a me, non mi fa impazzire, la canna sembra, può avere tanti significati, mettiamo Nevio lo stirato, che sei stirato veramente, e mi ricordo che Nevio, nel primo mese, fece più di 15.000 follower, ovviamente io lo sponsorizzai con il cuore, però, vedi, io, diciamo che a me mi dicono, lungimiranza, ma io mi dicono che sono molto bravo, anche con i miei amici, c'è il papà di Superman, c'è il ragazzo dal tag gigante, c'è il ragazzo depresso, io sono molto bravo a dare i soprannomi, che alla gente poi rimane impressa a tutti quelli che ci seguono, ovviamente, no, e quindi poi da lì, Nevio, ovviamente è un personaggio, è bravo, fa ridere, divertente, chiaramente ha avuto successo anche lui, c'è, quindi la bravura sta a me a individuare il nome, ma soprattutto a lui, che insomma, a portare avanti il personaggio, per fortuna, certo, poi le parole te le inventi, sono parole che usavano tanti anni fa, no? Ma quella è tipo regolare? Regolare, ballarsi la fresca, a cavallo, poveri, no, poveri nasce, nasce, siamo stati i primi, fumo io e Davide, Davide della Cerenza, che saluto, che è mio amico, mio fratello, fumo i primi, io andavo dieci anni fa, andavo nella vecchia gintoneria, no? Che siccome Milano, adesso posso dirlo Milano, adesso non so adesso, perché io discoteche le frequento, vado proprio raramente, Milano una volta, cioè dopo le due di notte, o vai in discoteca, o vai nei night, scusami a zoccole, in quei posti lì, che Milano dopo le due, praticamente è una città morta, a differenza di quando io avevo la vostra età, la tua età, che conoscevo vent'anni a Milano, c'erano cento locali aperti tutte le sere, ma molto meno rispetto a prima, se ti posso dire, se ti posso dire, è il 70% in meno di quando io avevo vent'anni, e puoi chiedere a tutti quelli che hanno la mia età, chiedi anche a Nevio, che Nevio ha 60 anni, puoi chiedere benissimo, e ti dico, quindi, dove vado, dove vado, era una domenica sera di febbraio, avevo bevuto in un locale a Milano, avevo avuto qualche Don Perignone, ero carico, non volevo andare a casa, non volevo andare nel classico discoteca a pagare una bottiglia, 600 euro, o andare a night per pagare la compagnia, che assolutamente non ho bisogno, poi ho fatto in passato, quindi una mia amica mi disse, guarda che ho aperto questo locale top, si chiama Gintoneria, però c'è tante bottiglie di champagne a prezzi economici, quindi io sono andato là, era un salotto magnifico, bellissimo, bottiglie a prezzi, e lì si vedevano gente, lì veniva veramente gente importante, i primi tempi nella Ginto, veramente, ma gente di una certa anche nobiltà o personaggi, che però, a parte qualcuno, spendevano poco, quindi da lì io e Davide insieme abbiamo individuato il termine poveri per dire, poveri, avete la fresca, non spendete, ovviamente non è poveri il vero povero, il significato vero, per carità, massimo rispetto per le persone che hanno le possibilità, io sono primo che se posso dare una mano, troppo dire Nevio, ho sempre aiutato qualsiasi persona, certo, ma io vorrei fare questa domanda a Nevio, tu nella tua vita di tutti i giorni, anche magari al lavoro, cioè tu continui a dire regolare, povero, sempre, appena entro in ditta tutti, oh è povero, 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 stanno salendo le scale, Grimbo, povero, conosciuto da un minuto, mi viene ormai automatico, poi la gente che ti ferma, Filippo lo sa, specialmente in discoteca, povero, povero, balla fresca, siamo alla cana, è così, la gente è pazzesca, ma se la gente ti strappa il sorriso, no, sai cos'è, la cosa che mi piace, adesso indipendentemente da tutto, poi, Filippo lo sa, certe volte diventa anche un po', non dico asfissiante, non sono certe persone che magari, sai, ti stanno un po' troppo addosso, gli danno fastidio, però la cosa bella, sai cos'è, che tutte queste persone, tutti ragazzi giovani, ma ti vogliono bene, cioè è incredibile, cioè ti vogliono veramente bene, cioè Filippo, io quando facciamo le serate in discoteca, cioè è una cosa ammazzinata, cioè io tante volte ci guardiamo e diciamo, ma Filippo non è possibile una roba del genere, ma anche prima, prima di adesso, ma ce lo meritiamo a noi? No, io dico sempre, l'importante è che le persone che siano in discoteca, che siano in un parco, che siano in un locale, che siano al cinema, l'importante è che siano educate, perché se un ragazzo giovane, che ho già spiegato l'altra volta, che avevamo parlato insieme, che oggi secondo me i giovani mancano, non hanno rispetto per le persone più grandi, non dico tutti, non generalizzo, però se un ragazzo con me giovane si comporta bene, io sono disponibile, posso fare cento foto, gli saluto tutti i parenti, gli saluto i nonni, gli saluto chi vuole, però se un ragazzo è mai educato, si presenta male, gli dico ascoltami, vai da un'altra parte che mi dia fastidio. Raccontatemi una situazione dove proprio quasi avete detto vaffanculo. Beh a me te l'avevo detto forse l'altra volta, una volta siamo andati a Piacenza, io e Nevio, anni fa a fare una serata da un amico, così in amicizia siamo andati, dove dei ragazzini mi hanno fermato a me, ah ma tu sei Filippo Champagne, sei un coglione, ti aspettiamo fuori, ma poi ero ragazzino di 19 anni, è di recente qualcuno che magari ha proprio detto minchia, basta, c'è un caccao, no, sai cos'è, che ogni tanto si trova sempre quello pesante, che insiste, sta un'ora che magari mi capita, ma è successo anche da Daide, che poi sono bravi i ragazzi, nessuno mette in discussione questo, però sai, arrivo dopo due minuti, mi fai il video a Grimbaud, mi fai il video a Jody, a Jody, mi fai il video, mi fai il video a Nevio, e ad un certo punto ti fai, oh ma quanti cazzo di parenti c'è, c'è i 100 parenti, no capite, che cazzo è, tu sai che su Instagram, sulla destra, io li apro, però tante volte trovo messaggi, dicendo che all'inizio Filippo sei il numero uno, Filippo sei il grande, poi io non avendoli visti questi messaggi, non rispondo, e dopo al quinto stesso messaggio, sei un coglione, pezzo di merda, ti stacco la testa se ti vedo in giro, Madonna, te lo giù, ma roba è veramente, come è vero, tant'è vero è il contrario, come ho visto tantissimi haters che mi hanno insultato, che siamo diventati degli ottimi amici sui social, io gli dico, ma perché mi insulti, perché ce l'hai con me, no, ma parla pulino, e poi alla fine sono diventati i miei primi follower, cioè, però se a volte ci rimanevo male, dico, ma che è questo che mi insulti, io non faccio, che alla fine a me tutti mi criticano, che gioco, che bevo, ma io, a chi faccio del male? C'è la gente che stupra le ragazzine, c'è la gente che ammazza, come è successo ultimamente, è una cosa che io gli darei la pena di morti a quello che è successo senza fare nomi, la gente che spaccia, quello che fa è la gente che pensa a criticare Filippo Champagne perché beve e gioca, ma diamo i numeri, cioè, c'è gente che ha ucciso le persone dopo due mesi sono fuori dalla galena, ma queste sono cose assurde, io non faccio del male, se faccio del male, faccio del male a me stesso, come salute, parlo ovviamente del bere, o come portafoglio economico, se i soldi sono di mio padre, di che sia della mia famiglia, ma io a chi faccio del male? Io non vado a rubare i soldi a Grimbaud, a Nevio o a Jody, non vado a prendere i vostri soldi e mi riballo al casino, io sono soldi miei, se io vengo qua e porto mille euro e mi va di bruciarli in diretta, poi io non lo faccio perché non bruciate mai i soldi ragazzi e non stracciatevi mai perché porta una sfiga, io sono un giocatore micidiale, non strappate mai, ho visto gente che l'ha fatto, non strappate neanche le 5 euro e se vi cade 20 centesimi in strada, raccoglieteli sempre, no ma sono 20 centesimi, che sono sempre soldi se è chiaro, e ti dico io però posso venire qua con mille euro, poi certo qua sono più a fuoco, posso anche bruciarli, sono cazzi miei, assolutamente, e pure tutti, addosso a Filippo, Filippo non va bene, esempio sbagliato per i giovani, a massacrarmi sempre, sei molto superstizioso, no no però sul gioco sì, dico di me delle cose che fai, sul gioco magari vado a giocare, se ci sono vicino a me persone negative io credo in queste cose e non le voglio vicine, tu pensa che io quando vado a casino con lui, Filippo lo sa, io sono un giocatore, lui gioca, tante volte Filippo stai dietro a me, non metto mai dietro lui, lui lo sa, sto lì un minuto e poi me ne vado, però io credo nelle persone che ti danno l'energia positiva, che hai sempre perso, quindi vuol dire che non funziona, no nel senso che da giocatore mi dà fastidio stare di fianco a un altro gioco, senza giocare, se gioco è un conto, ma se non gioco, stare dietro lui mi dà fastidio, perché pensi che ci sia anche solo un'influenza, no no proprio è una questione, sono giocatore, ti capisci? sì sì, e quindi io quando lui gioca a Brejack, ad esempio vado lì, sono un attimo con lui, ma neanche guardia, neanche stai un po' lontano dalla tua parte del tavolo, no 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 piuttosto giro per il casino, gioco alle macchinette che lui sa che mi piace ogni tanto buttare via qualche soldo alla macchinetta e sto lì e basta, poi dopo vede la sua sorpresa, speriamo che lui vince di Cenevio, stasera abbiamo fatto il piede, quando è stato settimana scorsa perdevo 4 mila dei miei, non avevo portato tanti contanti perché non volevo rischiare di fare un nuovo di sangue, no la carta non ho neanche, io ho un bancomat normale, io non ho carte di credito assolutamente, assolutamente, e quindi lei chiesti a Nevio? Allora io ho detto Nevio dammi 12 mila euro, ho vinto i 10 mila puliti, ma gli hai dato tipo un po' di vincita? No ho dato 2 mila euro, se dovessi vincere Nevio non è un problema, però dico, no poi quella sera ho vinto anche io caso strano, ah ok, caso strano, pensa perdevo 4 mila ma ha dato 2 mila dei suoi, 2 mila a Brejack ho fatto 16 mila, ho vinto 10 mila puliti, vedi che i miei soldi portano bene è andato in culo, è andato in culo, è andato in culo, ma ti faccio questa domanda, è andato in culo, ci dice così nel gioco è andato in culo, cosa vuol dire che è andato in fortuna, ah ok, Filippo se un giorno Nevio viene andata e ti dice Filippo ti vuoi chiedere una cosa, sono rientrato proprio nel loop del gioco d'azzardo nella maniera più pazza, ho bisogno che mi dai 10 mila euro perché devo pagare dei debiti in cui veramente non posso non farlo, gli daresti? Subito, 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 senza neanche pensarci, se scegliassi subito, ma se oggi, oggi mi sono svegliato, l'ho anche fatto la storia, non so se l'avete vista, stant'attima mi sono svegliato una ragazza, non faccio nomi, non quella che ho nominato l'azzardo, perché io sono, come si dice, faccio nomi e bella, io sono un, no perché è conosciuta, non è l'ultima arrivata sui social, come si dice quando benevole, benevole, non so come si, comunque io sono, benestante, no no no, con aiuti, benevolente, benevole penso, comunque io sta ragazza qua, mi alza mattino, Filippo sono in difficoltà, non è che mi puoi prestare i soldi, che mi devo fare, mi devo prostituire, a parte che questa ragazza qua l'ho già aiutata più di una volta e non mi ho fatto mancare mai niente, poi forse una ragazza che tutte le storie vedo, vedo tutte le storie, che tutte le sere a ristorante a mangiare, fuori a bere il vino, a bere il champagne, magari va a scrocco, ma lascia stare che va a scrocco, probabilmente andrà a scrocco, ma non mi interessa, però sono due mesi che non ti fai sentire, ma avessi anche scritto stamattina, neanche ciao Filippo come stai, subito, Firo non è che mi puoi aiutare i miei soldi, ciao Firo come stai, mi svegliavo, tutto bene, tu guarda c'è un problema, ok cosa c'è, allora è un discorso, ma io al primo messaggio che leggo, ma vai a rubare, hai fatto l'amore? No questa ragazza no, solo baciati e basta, ti vorresti farci l'amore? Ma è una bella ragazza, però abbiamo provato, ma non andiamo d'accordo, quindi non sto neanche a speccare il mio tempo come lei, sicuramente non speccherà il suo tempo, però c'è un'amicizia, visto che io ho già in passato, l'ho aiutata, mi ha chiesto dei soldi, l'ho fatto con il cuore, buca roba eh, non è che premo di cifre dal giocatore, però che trovo un messaggio stamattina, non mi avesse scritto, ciao Filippo come stai, Firo sono in difficoltà, mi dai i soldi, ma che cazzo è? Sai la cosa strana, la cosa che a me, cioè, a certe volte rimango meravigliato, e Filippo lo sa, persone che non senti da due anni, che non senti una vita, e adesso che sei diventato, che sei andato, capito, quasi all'apice, dicono cazzo, oh Nevio, come stai? Ti ricordi? Possiamo uscire, ti ricordi? Ma possiamo uscire una sera d'anno, andiamo a mangiare insieme, c'è gente che ci ha insultato a morte fino all'altro ieri, che ci hanno chiamato per andare nel suo locale, ma di cosa parliamo? Sì, sì, è incredibile, è incredibile, gente che non senti per anni, però sai, poi io lascio andare, cioè, gli rispondo, per il mondo del cielo, non è che sto io, sono abbastanza tollerante su quelle cose lì, cioè, non sto lì, però, tengo sempre le distanze. Nevio, ti faccio questa domanda, che mi sono sempre posto guardando le puntate della Zanzara, tu hai un sacco di debiti con le banche, no? Sì. Cioè, banche tipo, non so, Montepaschi, unicare, tutte queste cose. Sì, sì, vabbè, un po', un po' di banche. Cioè, banche che, se tu non puoi entrare in banca, se entrare in banca, ma adesso. Cioè, c'è la sua foto segnaletica. La sua foto, l'ho ricercato. Ma scusami, cioè, se tu, la domanda è che, tu non puoi avere delle proprietà? Assolutamente. Puoi? Ma va, non posso neanche, non posso comprare la macchina, vedete? Non posso intestarmi niente. Cioè, tu non ti puoi comprare una casa, sennò te la zanzano. Ma stai scherzando? Ma neanche le stringhe mi posso, delle scarpe mi posso intestare. Se ti testi qualcosa, sei rovinato. Le banche vengono. Ma scusami, ma tipo, a casa tua, il televisore te lo portano via, no? Ma che portano via? A casa mia, se viene a casa mia qualcuno, non tocco il televisore, gli stacco la testa, vai, poverello. Vai, ci sta. Io sono amante della televisione, ma scherzi. Sì, guardi tanta televisione? Non possono, non possono. Dicono, abbiamo bisogno di proprietà, non c'è più. Io non ho anche la televisione a casa mia. A vero, la differenza generazionale. Ma no, allora, a parte che io non ci ho intestato. Io ci sono letto, la cucina e basta. Per farvi capire, questo non è neanche intestato a me. Ok. Tanto per farvi capire. Stiamo parlando dello smartphone. Guardi, ma io ci ho intestato qualcosa. No, niente. E allora? Cazzo, io sono regolare, però non ci ho intestato nulla. Cioè, non mi intesto niente. Poi non parliamo discorso di banche, che io sono contrarissimo alle banche. Anche l'altro giorno mi manda un messaggio, mi manda una foto mio amico che ha una prepagata che usa per giocare, no, sai? Casinò, slot online. Il messaggio, gli è arrivata una mail con il numero della prepagata. Signor, tale dei tali, guardi che non sono gradite le operazioni che lei sta facendo con la nostra carta. Quindi gliel'abbiamo bloccata. Rabbè, ragazzi, ma roba è dell'altro mondo. Che tu non sei il numero. Puoi muovere i tuoi soldi come vuoi. Adesso, io qua, poi ne parlerò anche un domani in altri programmi. A questi qua, ragazzi, ci rompono i coglioni con i nostri soldi. A questo cos'è? Una tirannia, cos'è, ragazzi? Ma diamo i numeri, ragazzi. Quindi tu sei il contante. Ma per forza, non esiste. Ma a parte il contante. Ma sai perché? Perché? Perché, ragazzi, qui bisogna... Adesso io non voglio fare l'economista. Potrei anche farlo perché la faccio girare l'economia. L'ho già spiegata. Però ragazzi, ma secondo voi, l'eliminazione del contante... Adesso voi siete due ragazzi intelligenti. Giusto? Jody e Greenball. Secondo voi, l'eliminazione del contante, chi favoreggia? Rispondetemi una. Vi faccio la domanda io adesso. Allora, io... Chi favoreggia per te l'emozione del contante? Io ti devo dire la verità. Chi favoreggia? Rispondimi. Le banche. Vabbè, hai risposto meglio. Perché le banche? Perché tutte quelle operazioni che... L'ha spiegato, ci sono mille esempi, non vuoi arrivare io. Non vuoi arrivare... Ma che è nero? Ma che è nero? Ma che è nero? Ma che è nero? Cosa stai dicendo? Non puoi non pagare le tassi. Cosa stai dicendo? Che nei paesi dove gira più contante non c'è evasione fiscale? Informati bene. Io le studio queste cose, non sono l'ultimo. Perché la gente pensa a Filippo un alcolizzato, un giocatore un coglione. Filippo ha studiato. Io sono anche diplomato, ho fatto anche l'università e ho fatto anche una scuola di cinema. Aspetta, fammi finire. Se tu mi dai 50 euro, ascoltai bene, 50 euro, io vado da lui a comprare dei gioielli, gli do 50 euro. Lui questi 50 euro li prende, ok? Li prende. Lui questi 50 euro da Jody va da lui a prendere i fiori, gli passa e quindi 50 euro rimane 50 euro. Se io vado da lui e pago col banco ma i 50 euro i suoi gioielli, si prende la commissione che si becca la banca. Quindi da 50 diventa 39 euro, 49 euro. I suoi 49 va a comprare i fiori da lui un esempio, da 49 diventa 47. Dopo 30 passaggi il 50 euro vale zero. E chi si è intascato i soldi? Le maledette banche che fanno la bella vita col cazzo di nostri soldi. Perché poi attenzione, perché adesso le banche, non voglio fare il fenomeno, le banche, è normale che con noi persone normali, che abbiamo qualche soldino, qualche risparmiatore, ti rompono i coglioni. Io vorrei vedere che se un domani faccio 6 al supena lotto, vinco 300 milioni di euro, secondo voi la banca mi rompe i coglioni? Se vado a casa di noi stisci un milione? Rispondetemi, scusami mi rompe i coglioni. Si dice, se Romeo ne strisci anche 10 di milioni, che ci fa una cortesia. Eppure rompono i coglioni a tutti i pesci piccoli che siamo noi. E questo è una vergogna, una vergogna. Ragazzi non mettete più i soldi in banca, lasciate stare cazzo. Alla vecchia antica, se no facciamo la banca della gaina, portate i soldi a me e nevio, a me e nevio ci portate la fresca e vi facciamo spendere tutto il cazzo che volete. Scusami che con le banche mi altero io. Perché a me le banche mi hanno chiuso 3 conti, io non posso più aprire un conto in banca. Sapete dove ho conti in banca io? In Svizzera. No, non in Svizzera, sono in Italia, le poste italiane che fino a 5 anni fa li pigliavo per il culo. Chapeau alle poste italiane, sono dei signori. Chapeau alle poste italiane e la gente li piglia per il culo chi c'è contro le poste. Però è più facile evadere le tasse. Chapeau alle poste italiane. Più facile evadere le tasse, no? In che senso più facile? Allora, al tassista gli dai 50 euro ma puoi spenderli e non pagare. Scusate, 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 ma sai perché la gente vada le tasse? Sai perché la gente vada le tasse? Perché questo paese paga il 60% di tasse. Ragazzi, ma lo scherziamo? Io ex imprenditore, anno 88, 89, primo anno, 90, io metto su questa attività normale, fatture, tutto regolare. Quindi tutto regolare? Tutto regolare. A un certo punto facevo due conti con il commercialista. Ma che cazzo è? Ma io guadagno 100% e pago 60%. Ah bravo, 60%? E cioè, allora, io vi dico una cosa, scusate ragazzi, per una seconda Icos, eh? Io vi dico una cosa ragazzi, l'Italia, l'Italia, è il paese dei comunisti, è sempre stato il paese dei comunisti, anche se c'è la destra, comanda la sinistra, e questo te lo dice Nevio, Nevio te lo metto qua per iscritto, a parte quella, di destra, di sinistra, di destra, destra e estrema io, sempre, genitori. Ci stanno, ci stanno. Padre, nonni, vabbè, indipendenti, a parte che non voto da 30 anni, eh, non voto più, non mi interessa, io sono ex almirante, il vecchio, voi non so se lo conoscete, se siete giovani, comunque per me è il top dei top, pensa che questo era l'unico politico al mondo che adorava Berlinguer, che lo rispettava, che era di sinistra, chapeau, tanto di cappello, per farvi capire che personaggio era. Se io metto un'attività e pago il 60%, ma come cazzo fa uno che mette un'attività a non cercare di fare nero e vagre, spiegami, io voglio una spiegazione logica. Io pago il 60% di tasso alla società. Bravo, bravo, secondo te c'è logica, è una vergogna. Allora, tu vai in Germania e paghi il 25%, in Svizzera il 15%, in Francia il 25%, in Spagna forse ancora meno, in Brescia non ne parliamo, noi abbiamo il debito pubblico più alto d'Europa, mi segui? Ma secondo te perché abbiamo questo debito pubblico? Fatti una domanda. Perché la gente evade, perché costano troppo le tasse? No, tutte cazzate. Perché allora? Tutte cazzate. Perché allora? Perché noi facciamo i ponti che si ferma, cioè facciamo il ponte dell'autostrada che a un certo punto ti trovi il campo davanti, poi facciamo i palazzi in montagna a 7000 metri, i grattacieli, c'è tutti i soldi, buttati, ecco perché c'è il debito. Allora, c'è un mio amico che ho conosciuto in un lontano, non per l'evasione, tutte cazzate. Ho conosciuto un mio amico che lavora in Giappone, in Giappone paga l'8% di tasse, e ti dico un'altra cosa, paga l'8% e paga una cassa tipo di previdenza, bravissima, che paga, adesso non so, tutti trimestralmente, messilmente, ogni volta che va a farla, pulizia dei denti in Giappone, sai quanto spende? Dimmi una cifra. Qua in Italia costa da 100 euro a salire, indovina cosa paga a farla pulizia dei denti? 20 euro. 20 euro. 20 euro. Ma di cosa parliamo? E in Giappone, informatevi bene, il contante gira a fiumi, non è che si deve andare fuori a mangiare, che poi mi chiedi, tu pensa, pensa alla gente quanto sono ignoranti, gli invidiosi. Una volta vado da Bulgari, noi eravamo in 5, faccio, beviamo delle bottiglie importanti, di Venue, allora c'era, tu sai che adesso il contante è fino a sotto i 5.000, 4.000 euro, prima era 3.000 euro, quindi viene fuori un conto da 3.500, chiaramente paghiamo, io avevo dei pezzi da 500 e metto 3.500. Morale, questi haters hanno segnalato questo hotel dove sono andato, questa proprietà, dicendo che bisognava stare sotto i 3.500, ma ignoranti che non siete altri, ma se siamo noi quattro a spendere 3.500, 500 mei da Grimbaud, 500 le metto io, 500 le mette Jody, 1.500, lui mette 2.000, il problema è risolto, ma non ci arrivano neanche, poi tu devi vedere quel video lì che gira su TikTok, 2.000 commenti, 1.900 insulti tutti su di me, vergognati, evasore, truffatore, ma ragazzi, ma roba è senza senso, ma in che paese siamo ragazzi, questo qua è il paese dei falliti, l'Italia è il paese che deve fallire, deve fallire sto paese, deve fallire. Dov'è che andresti a vivere? In Svizzera tutta la vita. Perché non ci sei andato a vivere? Perché non sono come la gente pensa che sono così ricco, purtroppo non ho le possibilità per andare a vivere in Svizzera, perché in Svizzera ci devo andare e voglio avere la fresca e pesante, io sto bene, non mi la mento, io parlo come Filippo, non ho le possibilità, ma io andrei subito in Svizzera, aprirei subito un conto in Svizzera. Ma tu non hai soldi, se io ti dico quanti soldi hai in banca, tu non mi puoi rispondere. In banca ho 0 adesso, 0, forse 100 euro. Quindi tu anche perché in banca? In banca? No, tutto con tante. Io in banca mi hai chiesto una domanda, io in banca ho 100 euro. In banca, alle poste italiane. Però letteralmente, i modi per avere conto, o hai criptovalute o hai... Che criptovalute? Che comunque guarda che il futuro... Mi arrivano 2000 euro, mi arrivano 2000 euro sul conto corrente, li vado a prelevare e me li spendo cash. Guarda che il contante futuro... Non hai vietato prelevare? Il contante futuro sono le cripto, eh, ve lo dico. Sono molto scettico su sta cosa delle cripto, molto scettico. Anche perché mi è successo in passato di pubblicizzare una cripto in passato, una truffa legalizzata e sono stato truffato pure io. Non faccio nomi che è meglio, eh. No, 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 ma io non parlo di tutti. Di personaggi famosi, eh. Qua sono in ballo personaggi famosi col grano vero e mi hanno truffato anche a me. Io poi sono un signore, fortunatamente mi hanno truffato 30 mila euro. Ok, lascio stare perché io non so se sono buono o sono coglione a volte. Una truffa colossale ci hanno fatto. A me e tutti gli altri piccoli risparmiatori. Loro che erano in 10-15 hanno fatto i milioni di euro. Lasciamo stare che è meglio. La gente che vive in Svizzera fa la bella vita. E nevi lo sa chi sono. No, ma il fatto, questa cosa delle cripto che negli ultimi anni si sta creando tutta questa serie di cripto scam che vengono pubblicizzate per poi totalmente andare a zero perché ci sono quei critici. Che poi anche lì, la cripto è legale o non legale? La cripto non è riconosciuta. No, siamo in una zona grigia. E' un borderline perché non è riconosciuta. Sai, le banche hanno delle regole da rispettare. Ma la cripto può fare il fatto che vuoi. Anche i contanti. Ma no, aspetta. Voi siete giovani. Anni 70, anni 80. Sino anni 90. Girava tanto contante, giusto? Come andava l'Italia? Sinceri? Siete giovani? Noi sappiamo meglio di adesso. I anni 80, gli anni del top, del boom dell'economia. E quindi? E quindi? Tu vieni qua a dirmi mi togli il contante? E poi te nevi ho detto una cosa giusta, nevio. Cioè, guarda, il problema del contante, ragazzi, è solo in Italia. Ragazzi, è solo in Italia. In Germania fai quello che vuoi. In Svizzera, se vai in banca per arrivare i 50.000 franchi o euro, li va a scelta. Gli avviso un'ora prima, non c'è prima. Non è che ti dicono che devi firmare i moduli, antiriciclaggio di staccoppolazza di antiriciclaggio, capito? Queste cose qua, devi firmare il modulo. Non ti dico niente. In Francia pure, in Inghilterra pure. Ma che cazzo era? Un petticolone solo in Italia. Ma andate a rubare, va. Andate a rubare tutti quanti. Se tu vai a aprire un conto in banca adesso, sai quanto stai lì? Un'ora. Beh, perché devono vedere i tuoi dati. Sì, ma un'ora. Negli anni, ai miei anni, andate a aprire un conto in banca, sai quanto ci vorrei? 5 minuti. Ciao! Beh, però, insomma, diciamo che non darei, come dire, merito a un sistema che ti ha permesso di lasciare i milioni di debiti, no? Allora, lascia stare. Ma quella è una cosa sua che ha sbagliato lui. Ma lascia stare, indipendentemente, a parte che le banche, e te lo dice Nero, io ho fumato, ma posso? Scusami. Ci hanno sempre un fondo perduto. Cioè, la banca dice, noi abbiamo 100 miliardi, sanno che un miliardo, due miliardi, se ne vanno le cozze. Ma è sempre stato così. Sì, sì, sì. E' un fondo perduto, perché loro sanno che ci sono i cavalli come neve, due regolari. Certo. Sanno che ci sarà qualche insolvento. Cioè, ragazzi, però io me li son ballati i soldi, non è che li ho rubati. Vabbè, me li ho andati, e poi dopo sono scoppiato, me li sono giocati, sai, sono malato, sono ludopatico. Ma non hai mai pianto? Mai, mai, mai pianto sulla televisione. Non hai mai avuto un crollo emotivo? Mai, zero, zero il cuore. Io a 40 anni mi sono rimboccate le maniche e faccio corriere, a 40 anni. Ma se a me... A 40 anni, eh. No, no, no. Ma nevio, ma se a me quando l'ultimo conto che mi hanno chiuso in banca, o il penultimo, non mi ricordo, mi è arrivata una mail dalla direzione generale di questa banca, no? Una mail con tutte le mie movimentazioni in un anno, no? E c'era con un saldo di, non mi ricordo se più o meno, 400 euro, per 100, 140, 150. E c'era scritto tutte le cose. Preglievo, casino, prelievo, casino, prelievo in banca, spesa sala slot, spesa online. Ma ragazzi, ma questi mi hanno contestato quello che ho fatto con i miei soldi. Ma perché è normale? Perché io i soldi, avendo quei soldi, no, che poi entravano, uscivano, quello che sia, è normale che la banca non può utilizzarli per fare i loro interessi e per fare la loro fresca e per fare la bella vita. Dicono, i soldi di Filippo sono inutili. Questo li mette, li prende, li spende, li riporta, se ne va. Quindi Filippo non è un cliente gradito ed è una cosa vergognosa. Qua ci vuole una cazzo di legge. Io ho fratello senatore che poi ci parlo, penso, due parole in un anno. Ma ragazzi, ma fate una legge che io metto 10.000, 100.000, un milione. Se io metto un esempio, 200.000 euro in banca e una volta chiamo a Grimbaud e voglio fare i miei 50 anni, fra tre anni faccio 50 anni, voglio spendere 100.000 in champagne e mignotte, la banca me li deve dare e li voglio tutti i cash e me li dovete dare tutti i cash. Oggi se vai, l'ha detto un comico, oggi se vai in banca, ragazzi, a chiedere un prelievo di 4.000, sembra che fai una rapina. Sì, sì. Ditemi se sbaglio. I tuoi soldi. Sembra che fai una rapina. Sembra che fai una rapina, ragazzi. Andate in banca a chiedere domani, tutti voi che ci seguite, andate a chiedere un prelievo, non di 500 euro allo sportello. Fate sotto i 5.000, 4.500. Ragazzi, aspetta, fermi, ci dia tempo, mezz'ora. Una rapina! È come se entriamo incappucciati con la pistola. Ma andate a rubare, va. Una cosa che mi è capitata anche a me, che ho notato, è vero, qualche... un anno e mezzo fa avevo spostato una quantità comunque abbastanza importante di soldi dalla mia banca a un altro conto e quelli mi hanno chiamato. Anche me hanno chiamato. A me i primi bonifici che mi sono arrivati da questa piattaforma mi ha chiamato la banca e mi fa dimendarci tutte le fattu... Però effettivamente è una forma di controllo per capire se... Ma che controllo dicono le cose illecite! Ma mica siamo spacciatori, ragazzi! E poi gli spacciatori è tutto contante, che cazzo pretendete? Però io se avessi solo contanti... A me hanno contestato, a me è sbagliato, a me hanno contestato che una volta mio padre mi ha fatto un bonifico di 20k, ero stirato, non ho vergogna a dirlo, stirato! Non c'ho neanche i soldi per sigaretta! Mio padre che mi vuole bene che, grazie a Dio, faccio santo mio padre, mi dice... Ah, mi hanno contestato il bonifico! Oh! Mio padre ha il mio cognome, Romeo eh! La banca mi ha chiamato! Ma scusi, ma qua... Oh! Ah mio padre... Chi mi sta dando dei soldi? Che cazzo ha detto? Ok! E premetto! Mio padre in questa banca? Ci aveva il conto mio padre? Quindi? Era banca su banca, ragazzi! Ma di cosa parliamo? È diventato uno stato di dittatura e la dittatura sono le banche! Ricordate le mie parole! Chi comanda sono sempre le banche! Ah tu, Nevio, sei d'accordo con questo discorso? E io... Aspetta, Greenbound! Finisco qua, scusa Nevio! E io sono l'unico, l'unico che ha il coraggio di dirlo davanti a tutti! L'unico eh! Perché tutti la pestano come me! Ma non c'hanno le palle per dirlo! È regolare! Perché c'hanno paura! No, se no Filippo, ma scherzi! Se no... Poi la... Io lo dico davanti a tutti! Non mi interessa! Lo dico davanti a tutti! Perché io sono il più vero in assoluto! Me lo scrivono anche su istra e dico sempre quello che penso! Questa è la mia opinione eh! Modesta e umile opinione eh! Poi se la gente la pensa diversamente, io rispetto tutti! Per me funziona così! Però c'è un problema, Nevio tu sei lavoratore da vent'anni e sei in regola! Tu hai soldi nelle... No, non hai soldi in bagno! No, è vero! Come fanno a darti i soldi ogni mese? Ho prepagato! Ho intestato, immagino... Ho prepagato! Sì ma c'è una legge se non sbaglio che sotto... Sotto i 2000 euro non ti possono prendere i soldi capito? Non ti posso sento per niente! Cioè se tu... Se lui avesse i 50.000 sul conto potrebbe avere di noi! Ma se lui ogni mese sta sotto i 2000, 1500, 1600... C'è una legge mi sembra, io sono ignorante! No, è vero! Dove non possono perché... Quei soldi sono necessari per vivere! Capisci? Esatto! Non esiste! Poi scusa se io ho 7 milioni di euro per dire di debiti con le banche! Se ne fanno 5000 euro! Sì esatto! Se no ci mettono 800 anni per prendere ogni mese! Ecco! E' arrivata un'altra fettina! Sono passati 30 anni prescrizione! Una volta arrivavano i pacchi di lettere così! Adesso non hai visto un periodo che avevi paura se qualcuno bussava a casa? Ma che cazzo me ne frega a me! Mi stracciava! Ma a me io prendevo tutta la roba e stasera! Magari qualche volta mi suonavano alla porta e dicevi oddio! Che cazzo vuoi? Non c'è la flash! Non mi rompe i coglioni! Cazzo vuoi? Cosa mi prendi? Quando vieni a casa mia cosa mi vuoi prendere? Magari ti era rimasto qualcosa! C'è stato un momento in cui hai fatto l'ultima puntata in cui hai finito tutto! Zero! Sotto zero! Quei debiti! E ti ricordi scusa il momento in cui hai detto ok non ho più niente! Zero! E ti ricordi quel momento? Eh sì! Dovevi? E in mezzo alla strada! In mezzo alla strada? Eh sì! Ho fatto un anno in mezzo alla strada! Un anno in macchina ha dormito! Mamma mia! Per una vergogna dirlo davanti a tutti! No no no! Incavacca! Lo sapevo! Aspetta! Io non lo sapevo io perché se ci fossi stato io ovviamente lo prendevo a casa mia! E quel punto che si ha perso di vista che si spiegava all'inizio! Si si si! Si ha perso di vista! Sento a Tornetti! Lui ne ha vissuto un anno in macchina ragazzi! Un anno in macchina! Non c'è mangiare! Primo mese e non in macchina! Primo mese in mezzo alla strada! E anche sui treni giorni! Ma direi! Racconta! Questa è bella! Racconti come ti facciano le multe sulle panchine vigili! Di notte! Racconti! Racconti! Una volta dormivo la stazione! Senti qua! Alla stazione! Faceva freddo la novembre dicembre! Sai? Nella sala d'attesa no? Ero lì! Faceva freddo! Arriva questo poliziotto! Sei quella polizia della... La Polfer! Si chiamava allora! Allora entra dentro questo qua! Erano le 6 del mattino! Ma lei cosa fa qua? No! Adesso devo fare la multa! Come la multa? La multa? Si! Non sto scherzando! Allora mi fa entrare nell'ufficio! Mi fa la multa! A un certo punto... 20 mila lire! Una roba del genere! Io ho preso la multa in faccia a lui! E ho detto! Io l'ho strappato! E ho detto! Coglione! Adesso mi deve arrestare! Hai sbagliato personaggio! Io sono venuto qua per dormire! Per riposare! Io... Non c'ho una casa! Sono... Un senza tetto! Che cazzo vuoi! Ti pago 20 mila lire! Non c'ho neanche gli occhi per piangere! Non ti vergogni! Testa di cazzo! Proprio così! E ho detto! Arrestami! Poi sono venuto! E l'ho strappato in faccia! E me ne sono andato! Ti dovresti vergognare! Perché una persona... Cioè! Vedi! Il mio carattere è diverso! Io sono molto tollerante a quelle persone! A me queste cose mi danneggiano! A livello proprio! Poi! La colpa è mia! Cioè! Nel senso! Io ho fatto quello che ho fatto! Tutta colpa è mia! Quello che vuoi! Ma tu mi dai una munta da 20 mila lire! Perché dormo! Dentro! Che poi non c'è nessuno! Per mangiare! Ma non è! Non è! No! Lascia stare! È il concetto! Capito! Ti dovresti vergognare! Ti dovresti vergognare! Se io sono un poliziotto! E vedo Greenbaud che è disperato! Che dorme alle 5 di notte in stazione! Lo svedico! Ma cosa fai qua! Mi fai la multa! Sono un senzatetto! Ma secondo te io! Non Filippo Champagne! Filippo! Ma secondo te io come Filippo Romeo che è il mio nome cognome! Secondo te io do una multa a un senzatetto! Al massimo gli dico! Guardi! Per oggi posso chiudere un occhio! Però! Io sono buono! Ma magari domani arriva il mio collega! Magari la compagna fuori! Ma io gli metto a fare la multa! Ma ragazzi! Ma io veramente! Ma dove stiamo! Ecco perché io! Ecco perché io! Ecco perché io! Ecco perché io! Queste cose qui a me! Ti toccano! Quindi sai! Io su quelle cose lì sono abbastanza! Io sono molto sensibile! Sono una persona molto sensibile! Quando a me capitano queste cose! Poi sai! Dopo ci pensi! Tante volte! Non avevo voglia di dirlo! Tante notti ho pianto! Perché è normale! La parte della persona! Certo! Però sai cos'è! La differenza fra me e tante altre persone! Che io! Quello che voglio fare! Insegnare ai giovani! Se capita una roba del genere! Non fate quello che ho fatto io! Assolutamente! È ovvio! Ma vi dovete rimboccare le maniche! Io mi sono rimboccato! In che modo! Voglio sapere il processo da dormo in strada! A sei qua adesso! Qui sei tranquillo! Tramite amicizia! Ho cominciato a lavorare in TNT a Milano! Facendo la notte! Poi tramite un mio amico! Mi ha fatto entrare in TNT a Munza! E da lì ho cominciato a fare il corriere! E piano piano mi sono risollevato! E però! Tu ogni tanto non dici! Cioè ripensi magari i soldi che avevi! Dici! No no! Non mi interessa! Zero! A noi ragazzi! A noi dei soldi! Come dice lui! Con o senza! Ce ne può fregar di me! Ma è normale che i soldi sono comodi a tutti! A me servono per vivere! Giustamente! Certo! Poi io! Non voglio fare il nome! Una mia amica carissima! Che Filippo conosce! Che a me è stata lei la mia salvezza! E tuttora ci sentiamo due o tre volte al giorno! Cioè io! Sono un amica! Lei è di più! Posso dire tutto! Ma io anche parlando col bere! Se io posso bermi! Che a me è successo il più! Io magari l'ho spiegato quelle volte! Anche alla Zanzara! O altri podcast! Io magari faccio due mesi! Che ho la fresca in tasca! Faccio l'americano! Poi magari faccio tre mesi! Che al posto di bermi il cristal! Adesso sei nel periodo cristal! No! Adesso sta andando abbastanza bene! Cristallino! Però ti dico! Ma io che bevo il cristal! E mi posso divertire con voi tre! O bevo la tennis! A me non cambia niente! Cioè tu non sei uno che sei tipo Io ti invito magari a casa mia! Fai finta che Ti invitavo! Ti invito un giorno a casa mia! Entri e vedi che Insomma a casa proprio! Cioè! Come dire! Quello stendino! Top spot! Non so come dire! La casa umile! La casa proprio quella che vedi! Da ragazzo! Mi siedo con te a tavola Senza nessun problema! Poi magari Mi dai un vino Che non mi piace! Ma fidati che Mi è già successo in passato! Lo bevo senza problemi! Poi certo! Magari non lo apprezzo Come mi piace bere un vino importante! Ma Io ho bevuto ragazzi! La gente non lo sa! Io ho bevuto anche il tavernello ragazzi! Vabbè! La gente non lo sa queste cose! Io ho bevuto anche il tavernello! Voi non lo sapete ragazzi! Ma c'ho una mia vecchia storia di anni fa! Che ho bevuto anche il tavernello! Vabbè! Ma non è una roba così illegale! Il tavernello è una roba che Se ti bevi dei buiti del tavernello Vai sotto terra! Si esagera ovviamente! Visto che stavamo parlando di vini! Tutto rispetto perché fa il tavernello! È tutto un paradosso sono solo un pazzo Quest'amore so che sparirà Ora non mi muovo ma nemmeno stacco Canto solo e faccio na 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 Ma non posso fare poi le cose Si quelle che dici ma come possiamo fare Grazie!